L'esperienza è stata in sé formativa e anche inusuale. Pur venendo spesso a teatro, riuscire ad assistere alle prove degli attori e capire come lavorano su ciò che dicono, su come lo dicono, eccetera, è una parte che non vedi mai a teatro. È bello perché c'è stata anche l'interazione con gli attori che ha dato un tocco più magico forse alle stanze, alle sale, ai passaggi nei corridoi, quindi ho apprezzato il grado di tutte le esperienze. Pordenone è una città culturalmente molto attiva, quindi diciamo che il teatro è un po' la punta di diamante di questo tipo di rete culturale che c'è. È bello che ci siano anche questi tipi di iniziative che portano più gente a teatro.